Siamo con Nicola Mora, Nicola manca ormai poco a questa partita, è importante quella con il Savoia, è importante per quello che è l'avversario ma soprattutto per voi e in particolare per te Franco che giocherete gli ultimi 90 minuti. Sì, diciamo che è una partita importante perché è l'ultima del campionato contro una squadra blasonata che viene qua sicuramente per farsi la partita, loro fanno i playoff e quindi sicuramente sarà una partita importante, intensa, è l'ultima del campionato e corona sicuramente per quanto mi riguarda a me e a Franco una carriera importante e rimane semplicemente comunque una partita che va a chiudere una stagione sicuramente positiva per tutti quanti noi soprattutto per la società che ha raggiunto per l'ennesima volta una salvezza tranquilla per la seconda volta consecutiva e ci teniamo a fare bene per chiudere il campionato in bellezza. Ecco qualcuno ha detto che in realtà ce la potresti ancora fare a giocare, allora ti chiedo come mai sei arrivato a questa decisione comunque importante dopo una carriera come dicevi tu, sicuramente di altissimo livello però almeno in campo hai dimostrato di potercela ancora fare. Sì sicuramente se avessi stretti i denti un altro anno si poteva fare però nella vita a volte si fanno delle scelte e si arriva a dei momenti in cui uno deve prendere decisioni, la decisione è quella di chiudere qua dopo una stagione veramente esaltante, bella sotto tanti aspetti e quindi abbiamo colto la palla al bazzo di avere anche l'occasione della partita giusta per chiudere in bellezza, io ho giocato contro questa squadra anche in campionati importanti come in Serie B, ho fatto gol al San Paolo contro il Savoia quindi quasi il destino ha voluto che questa fosse la partita giusta e il momento giusto quindi ci tengo a chiudere qua in mezzo alla mia gente che ormai considero quelle che sono ormai la mia gente in mezzo a tanti amici quindi è giusto così e penso che la decisione sia in fondo quella giusta. Ecco Nicola se vuoi dire qualcosa ai tifosi, la società ha organizzato una vera e propria festa per questo finale di campionato per voi, per te Franco ma soprattutto per tutto l'ambiente. Io penso più che a livello personale penso che la gente debba venire per dare omaggio a questo grande campionato a questa grande squadra che ha fatto un campionato veramente al di sopra delle righe e la salvezza anticipata e il settimo posto penso che sia storico per il Real Forio quindi mi auguro che sia tanta gente per questo motivo perché questi ragazzi meritano un applauso e un abbraccio da parte del loro pubblico che è stato vicino in tutto il campionato quindi per coronare questo campionato c'è bisogno di tutta la gente poi dopo che ci sia l'addio mio e quello di Franco è solo un contorno e può fare solo che piacere però ripeto è Forio società, è Forio squadra che merita una grande chiusura di campionato con un grandissimo pubblico qua al Calise.